Il giovedì 5 aprile è stata una giornata in cui abbiamo dato un po' di notizie che riguardano la filiera agroalimentare, perché finalmente entra in vigore la nuova normativa che prevede delle etichette sul cibo molto dettagliate, quindi questa è una notizia importante per i consumatori ma anche per i produttori, perché possono distinguersi da chi non fa le cose proprio di alta qualità. E quindi abbiamo realizzato un servizio per dare questa importante notizia ai consumatori, ma si è parlato anche della firma di un protocollo che crea un vero e proprio distretto rurale nella Toscana del Sud. E poi per la cultura abbiamo parlato invece di una nuova mostra che apre al Santa Maria della Scala, che ha una particolarità, perché le opere esposte, i quadri esposti possono essere toccati da tutti e anche dai non vedenti, che quindi possono usufruire di questa mostra di due artisti che arrivano dal nord Europa. Un altro tassello sulla strada della tracciabilità e della trasparenza, ma soprattutto per la tutela e la salute dei consumatori. E questo è il commento di Col di Rete all'entrata in vigore di etichette con sede e indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento, che non saranno più tabù nell'etichetta degli alimenti. Scatta infatti l'obbligo di indicare queste informazioni con l'entrata in vigore il 5 aprile del decreto legislativo del 15 settembre 2017. Una norma che serve per consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia. Una norma che è stata sostenuta e voluta fortemente anche dai consumatori, che per l'84% ritengono fondamentale conoscere, oltre all'origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione, secondo quanto è avvenuto fuori dalla consultazione online del Ministero delle Politiche Agricole. Con l'obbligo arrivano anche le sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 a 15.000 euro. Siglato il protocollo d'intesa per lo sviluppo del distretto rurale della Toscana del Sud, di cui fanno parte 14 comuni grossetani, 17 della provincia di Siena, 2 aretini, 1 livornese, tre unioni dei comuni dell'area grossetana e la provincia di Grosseto. Con questo protocollo la Regione ha formalizzato il sostegno alla partecipazione del distretto al bando del Ministero delle Politiche Agricole, sostegno che prevede per la Regione anche un impegno economico di 15 milioni di euro, una firma per dare una spinta al futuro e all'agricoltura della Toscana del Sud. Questo distretto agricolo avrà un grande futuro perché il marchio della Toscana vince su tutti gli altri. Oggi i prodotti sono importanti perché stanno dentro un contesto che è un contesto agricolo, paesaggistico, culturale, un contesto di qualità. La Toscana ha queste caratteristiche, le ha tutte. Il distretto rurale della Toscana del Sud nasce con l'obiettivo di rafforzare il marchio toscano dell'agroalimentare attraverso la valorizzazione delle sue eccellenze. È un sogno che si avvera, dare una configurazione all'area sud della Toscana di un unico distretto che mette insieme tutta la provincia di Grosseto e il sud delle province di Livorno, di Siena e di Arezzo che mette insieme più imprenditori perché ci sono 17 progetti reali per un valore di poco inferiore ai 40 milioni di euro. Il distretto rurale Toscana del Sud ha raccolto i progetti nel territorio e ottenuto il supporto e il contributo della regione. Ora potrà concorrere per l'ottenimento dei contributi per lo sviluppo di tutta l'area attraverso il bando del Ministero. Un distretto che è realtà, un distretto che sta crescendo, con l'investimento della regione di oggi lo stiamo dimostrando. Le istituzioni ci hanno creduto e a questo punto ci devono credere gli imprenditori. Il progetto del distretto è sicuramente fare aggregazione, fare soprattutto trasformazione e attraverso la trasformazione agroindustriale creare anche i posti di lavoro che soprattutto nel nostro territorio ce n'è tanto bisogno. Daniele Pitteri, direttore del Santa Maria della Scala. Oggi si presenta alla mostra Josef Endani Alberts con l'Istituto Nazionale Ciechi, l'Unione Ciechi e Povedenti Italiana. Quindi un percorso che si apre, un'arte che si apre anche al tatto, anche a delle disabilità visive e cognitive. Di che cosa si tratta? Beh, innanzitutto si tratta di una mossa su due dei più grandi artisti del Novecento, due esponenti del Bauhaus che fra l'altro avevano anche un rapporto affettivo molto forte con la città di Siena e con la pittura senese. In secondo luogo è appunto una mossa molto particolare perché è una mossa basata sulla necessità del pubblico o meglio sul spingere il pubblico a vivere un'esperienza sensoriale abbastanza ampia che non riguarda soltanto la fruizione attraverso la vista delle opere ma riguarda anche il tatto e anche il suono perché ci sono appunto anche le parti che riguardano il suono che sono fortemente collegate fra di loro. E quindi diciamo è una sperimentazione importante di cui noi siamo molto contenti perché ovviamente è un progetto che parte qui da Siena per poi dopo aver smontato la mossa qui a Siena andare in Irlanda a Korkad, Glucksmann e poi a fine anno a Zagabria, al Museo di Arte Contemporanea di Zagabria. Quindi è anche uno degli elementi che noi ci eravamo posti come obiettivo quello di creare dei progetti culturali densi da un punto di vista contenutissimo ma anche basati su relazioni internazionali. Sindaco Bruno Valentini, oggi a margine della presentazione della nuova mostra sul Santa Maria della Scala parliamo anche del programma intero del complesso museale dell'Acropoli e poi abbiamo dei numeri registrati proprio lo scorso fine settimana nel weekend di Pasqua che parlano di un vero record. Sì, nel 2017 gli ingressi al Santa Maria della Scala sono quattro volte quelli che abbiamo trovato quando abbiamo cominciato questo mandato, siamo intorno ai 135 mila quest'anno i dati sono ancora migliori perché solo a Pasquetta c'è stato un record mai raggiunto prima fra Duomo e Santa Maria della Scala perché ormai abbiamo la bigliettina unica si è raggiunto una punta in un giorno solo di 8 mila biglietti venduti. Questa è la miglior conferma che il Santa Maria della Scala sta diventando un luogo di attrazione permanente. E siamo al termine della settimana, venerdì, venerdì purtroppo dobbiamo fare un po' il punto su quello che sono stati due fatti di cronaca della settimana perché sono stati attivati ben due codici rosa. Ci sono stati infatti due episodi di maltrattamenti nei confronti di due donne in due casi diversi. E poi la politica perché sinistra pre Siena ha presentato il suo candidato. Andiamo a vedere questi servizi. Due codici rosa che polizia e carabinieri hanno dovuto attivare a Siena questa settimana. Il primo caso a Poggi Bonzi, atti di violenza, minacce, umiliazioni ripetuti contro la convivente, 27 anni, anche in presenza del figlio minore. Alla fine per questi fatti andati avanti per oltre un anno sono scattati gli arresti domiciliari a carico di un operaio poggi bonziesse di 33 anni. L'accusa per lui è di maltrattamenti in famiglia in presenza di minore. L'altro caso si è verificato a Monteriggioni in preda a un raptus e per motivi di gelosia ha trascinato con forza in macchina l'ex fidanzata portandola in una zona isolata per un'intera notte la picchiata strappando le ciocche di capelli e colpendola con schiaffi al volto e al naso e calci all'addome minacciandola di morte. La donna è riuscita a sfuggire alle violenze facendo credere che presto sarebbero tornati insieme e riuscendo così a farsi riaccompagnare a casa. Qui ha chiamato il 113 gli agenti, sono risaliti subito all'autore, un 26enne residente nel Senese arrestato con l'accusa di sequestro di persona, aggravato, lesioni personali e minacce aggravate. Si aggiunge un nuovo candidato alla schiera di tanti che scendono in campo per impegnarsi nelle prossime elezioni amministrative del Comune di Siena. Sinistra per Siena presenta a sorpresa il suo candidato. Quali sono i punti cardine del vostro programma? Abbiamo fatto un documento che sono indicati 10 punti ma partiamo dal primo, il degrado del ruolo della città, del Comune di Siena nel panorama anche regionale e nazionale. Al primo posto c'è stata ovviamente la vicenda del Monte dei Paschi ma poi a seguire tutta l'abdecazione del Comune nel svolgere i ruoli che gli erano tradizionali in settori come l'acqua, i rifiuti, i trasporti, la sanità, i servizi pubblici in genere. Il Comune si è tirato indietro, non svolgere più un ruolo non dà garanzie ai cittadini, le tariffe sono aumentate, i servizi sono peggiorati. Quindi questo è il primo punto che noi poniamo al centro, recuperare un ruolo del Comune sia nel panorama regionale e nazionale sia nella gestione dei servizi pubblici della città. Farete degli apparentamenti, farete delle alleanze con altri partiti o gruppi della sinistra? Sì, intanto abbiamo fatto un accordo con il gruppo di Potere al Popolo che la volta scorsa era già alleato con noi nella formazione di rifondazione comunista e siamo aperti a cercare anche altre collaborazioni, altre collaborazioni che potrebbero venire da chi sta dentro l'EU ma non condivide uno sdraiamento sul partito democratico, da chi sta dentro 5 Stelle ma non condivide il centralismo assoluto di questa formazione. Sappiamo che nella città c'è tanta gente, tanti gruppi con cui abbiamo parlato e discusso che sentono la stessa nostra volontà di cambiamento. E questi erano i fatti della settimana, grazie per averci seguito e come sempre un buon proseguimento su Canale 3. Grazie per la visione!